buongiorno 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 oggi è l'immacolata mi devi dare una mano a prendere la roba dal stanzino a me fa l'albero di ma che stai dice animo ma c'è finito la vista con il cappalabra casa di marivano altra vista basci bella cosa bella parigi di notte buongiorno buongiorno aiii che è qua ma che c'è qua che mi fai spurti qua ma prendi la roba la prenda la prenda la prenda ma tu non mi chiedi non mi chiedi ma tu sei per questo qua non mi chiedi ma che non mi chiedi non mi chiedi tu non mi chiedi tu non mi chiedi ma quando è il sabbara? tre si qua lo chiedi tre e che c'è qua dentro? palle con questo passo non c'è niente ma tu con sabbara non devi mettere via la piazza io sono andata a casa per mettere su vai vieni 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 meglio ma ci do' l'albria natale non mi chiede vai tu vieni Yoon vieni hanno un pozzotto in più, io c'ho il peggio diretto altrimenti per far funzionare la cosa, il salto da fare è rimane appicciata tutto l'anno questo per me, è un po' giusto ma si rifatta cose ma mentre le cose fanno un bacco è buono dai giù no, mi chiede fu giù no, mi chiede fu giù no, mi chiede dai, dai, dai buono salata, non vado a farlo la potevo prendere senza buio uffa uffa sedi è su 3 differenziato, è su 3 dai, hai fatto subizzicare? la prima mette le luci la prima mette le luci cosa dove? vediamo pure la Brungone non c'è vero niente ci sei? ci sei? come non ci sei? allora, allora ci sei? vediamo Brungone qua ma chi sa che è una cosa difficile come ci va? non ci va non c'è infatti, per i servizi siamo i numeri 1 ora siamo e questo è il carimanismo eh? allora, ti vengo a aprire la presa va eh? ecco si sai dove? dai sai va oh, tutto a che tu fuggi ok, non c'è qua non c'è ah 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 eh 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 mandi e che c'è la madre? ma non c'è il mare ma non c'è il mare ma non c'è il mare non c'è il mare ah 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 è finito abbiamo finito si si è collaborato assai tu è molto buono come siamo qui si fa non rimanere 365 euro capicina sul discolino non è solo indifferenziato un parito quando lei ha volto vai prima music licensing reimagined